Sono stati premiati a Pescara nell'auditorium Petruzzi i migliori progetti del contest Riscattiamo Bussi, promosso dal Movimento 5 Stelle Abruzzo per la riconversione e riqualificazione sostenibile del sito industriale ricadente all'interno del SIN di Bussi sul Tirino. Alla cerimonia di premiazione erano presenti i consiglieri regionali Sara Marcozzi, Domenico Pettinari e Pietro Smargiassi. Al primo posto si è classificata la proposta da cosa nasce cosa di Giulia Marcucci. Il progetto vincente propone un passaggio dall'industria pesante all'industria pensante attraverso un riuso del patrimonio di archeologia industriale in spazi per la ricerca. Oggi il Movimento 5 Stelle ha dimostrato che mettere a sistema istituzioni, università, studenti e cittadini per avere insieme, per creare insieme un'idea di futuro, una visione di futuro per la nostra regione non è affatto impossibile, anzi è molto facile e c'è bisogno di pochissime risorse. Abbiamo dimostrato di avere una visione per il nostro territorio, noi crediamo che lo sviluppo economico di questa regione e dunque la riconversione del Sindibussi ci debba essere una riconversione sì produttiva ma ovviamente ecologica e sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo lo faremo e il progetto che si è classificato primo verrà inserito nel programma del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. Noi crediamo che lo sviluppo economico del Paese e dunque anche dell'Abruzzo e della nostra regione debba essere uno sviluppo economico sostenibile non delocalizzabile, non si tratta più soltanto quando parliamo del Sindibussi di una questione ambientale, una questione certamente ambientale drammatica ma è da un problema, possiamo far nascere grandissime opportunità di lavoro e dunque è una questione che attiene al lavoro e che attiene anche alla salute pubblica e noi teniamo a tutte queste cose.